Due anni prima della mia nascita scoppia la dittatura fascista e fin da piccolo fui costretto a lavorare come garzone per aiutare la mia famiglia. A 15 anni ebbi il mio primo lavoro ufficiale in un'azienda di aerei. Nel 1943 scoppiò la guerra. Il mio posto di lavoro divenne fornitore per l'esercito e così inizialmente evitai l'arruolamento, ma poco dopo venni licenziato e fui obbligato a combattere per il mio paese. Sapevo però che non era la scelta giusta e così insieme ai miei amici disertai. Ben presto entrai nella resistenza partigiana. Iniziai distribuendo volantini e sabotando ferrovie. Partecipando poi alla prima missione molti miei compagni vennero uccisi e io finì in prigione. Nel 1945 finì la guerra e io venni liberato. Mi sposai ed entrai in politica per diffondere il mio messaggio di libertà e continuai a farlo grazie agli incontri con i giovani. Grazie a tutti.